Yes we camp, but we don't go away. E' lo striscione provocatorio apparso nel cuore dell'Aquila e intanto i cittadini chiedono aiuto al Presidente degli Stati Uniti. Aiutaci tu Obama, dacci una mano nella ricostruzione. Obama, se ognuno di questi statisti si prende carico di fare qualcosa, di accomodare una chiesa, una piazza, un paese, penso che sarebbe una bella soluzione. Capiscono veramente la situazione dell'Aquila. Lui che forse... Lui chi? Lui Obama. Fa parte dello Stato più piccolo del mondo. Se facesse carico mi mette a posto la piazza dell'Aquila. Le cose principali. La piazza principale, piazza l'uomo. Speriamo che qualcosa faccia, insomma. Io penso che sia una cosa positiva al 100%. Poi chi la vede in un modo e chi in un altro. Però io penso che sia positivo perché sono tutti i capi di Stato che al limite qualcosa lasceranno, faranno. Speriamo. E qua per la ricostruzione abbiamo bisogno di tante cose. Quindi se ognuno di loro fa qualcosa, che ben begano.